Alla vigilia del 38esimo anniversario dell'omicidio del presidente della regione siciliana Pirsanti Mattarella, fratello dell'attuale capo dello Stato Sergio, la Procura di Palermo ha deciso di riaprire le indagini. La DDA ha avviato nuovi accertamenti su chi sparò. Si ripartirà da una targa, come riporta il giornale di Sicilia, riaprendo la pista nera già seguita da Giovanni Falcone, che portò a giudizio Giusva Fioravanti, che fu però assolto da una corte d'assise. Il killer sparò con una pistola Pirsanti Mattarella e poi fuggì, salendo su una Fiat 127, dove l'aspettava un complice, anche lui rimasto senza nome. La pista neofascista, a partire dal ritrovamento del 1982 di spezzoni di targhe in un covo dell'estrema destra a Torino, fu ipotizzata già nel 1989 dal giudice Loris D'Ambrosio, in un report finito adesso alla Procura Generale di Bologna, che ha avvocato a sé l'inchiesta sulla strage della stazione del 2 agosto 1980. I familiari delle vittime ritengono ci siano elementi di prova che collegano come mandanti del delitto Mattarella e della strage di Bologna, la P2 e spezzoni deviati dei servizi. I magistrati stanno adesso approfondendo informazioni che erano state, in un primo momento, sottovalutate o addirittura scartate. Una riguarda proprio quella targa, o meglio, gli spezzoni di una targa ritrovati il 26 ottobre 1982, due anni e dieci mesi dopo l'omicidio di Mattarella, nel covo nero di Torino. In un appartamento di via Monte a Solone, i carabinieri trovarono due targhe tagliate. Un primo spezzone aveva la sigla PA, come Palermo, il secondo la sigla PA 563091. Sono gli stessi numeri, ma composti diversamente, rimasti agli assassini di Pier Santi Mattarella, che avevano utilizzato due targhe rubate per camuffare la Fiat 127 del delitto. Il giorno prima dell'omicidio, i killer avevano prelevato la 127 targata PA 536623. E sempre quel giorno, il 5 gennaio del 1980, avevano asportato da una Fiat 124 una targa con questa sigla, PA 540916. Poi avevano costruito una nuova targa con i numeri delle altre due, PA 546623, rimasta attaccata alla Fiat 127 e abbandonata dopo il delitto. Dunque, ai sicari erano rimasti questi spezzoni, PA 53 della prima targa e 0916 della seconda, quindi PA 530916. La famiglia delle vittime avevano sollecitato nuove verifiche già un anno e mezzo fa. Adesso i nuovi accertamenti vengono considerati quanto meno doverosi. Da chiarire anche il possibile ruolo di Don Vito Ciancimino, che potrebbe aver avuto interessi concreti nell'eliminazione di Mattarella.